Cosa vuol dire essere cristiani? Essere cristiani vuol dire far parte del corpo mistico appartenendo alla Chiesa di Roma come cattolici, appartenendo al Cristo col vivere veramente come egli ha insegnato e comandato di vivere. Altrimenti non si è cristiani di fatto, neppure se si è cattolici per aver ricevuto il battesimo secondo il rito della Chiesa di Roma e gli altri sacramenti. Gesù ha detto Amatevi. Dal come vi amerete si capirà se siete miei discepoli. Amate il prossimo vostro come voi stessi. Leggete il Vangelo. Vivete il Vangelo in queste sue tinte di perfezione. Cominciate dall'amore. Sembra il più difficile precetto e consiglio. Ma è la chiave di tutto. Di tutto il bene. Di tutta la gioia. Di tutta la pace. Rendete a Dio ciò che Egli vi ha messo in cuore per farvi simili a Lui. La capacità di amare. Grazie. Grazie. Grazie.